ci siamo siamo partiti è l'ultima live che facciamo su portal 2 da una parte mi sembra che sia passato tantissimo tempo dall'altra mi sembra che abbia giocato veramente poco sì no perché in realtà sia tanto che denso ci sono questi percorsi che bene o male comunque alla fine non durano tantissimo sì finché a meno che non ci blocchiamo sì allora oggi facciamo nel mentre ringrazio tutti quelli che stanno arrivando nel mentre vabbè questa cosa non serve a questo punto a questo punto oggi si fa il dlc i percorsi extra con tanto di finale extra a c'è quindi un finale sì 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 c'è il finale extra mi incuriosisce come è stato chiamato arte terapia si è l'arte terapia esatto ah ecco quindi quando finisci via lì ti apre il passaggio vedi non c'era prima c'è sempre stato per noi ma in teoria nel gioco si apre dopo ok sono 9 per cui dobbiamo comunque essere abbastanza concentrati yes vediamo ma qui abbiamo solo l'arte terapia allora vediamo curiosissimo di capire cosa succede qui perché non so se sono semplicemente testi non so se l'arte c'entra qualcosa davvero e mancano 9 livelli sono i 9 livelli dell'arte terapia e poi abbiamo fatto quanto durino dipenderà solo da noi non è vero non è vero non è vero sì ah ma siamo separati quindi siamo separati ok io ti faccio a te cosa fai tu ti apre il ponte quale ponte quello che sta lato a sinistra ok però ma tu hai il laser e io le torrette tu hai torrette no no io non ho torrette ce l'hai lì vabbè non importa per adesso quello che posso fare io con il laser mi sembra poco però sì me lo puoi passare in alto credo lo puoi far arrivare in alto però non va da nessuna parte così no proprio eh che palla un secondo aspetta qui ho un un passante voglio vedere ah ok ah 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 non vedo come questo possa essere eh no penso che ok aspetta ok aspetta no perché tu non puoi giustamente metterlo cioè è soltanto orizzontale in base all'altezza che abbiamo noi come robottini quindi andiamo un po' io qua ho un passaggio con delle torrette e ovviamente puoi proteggere credo che puoi proteggersi col cubo credo no non deve provare devo provare a puoi provare ah no no cioè che il cubo mi protegga non lo metti in dubbio non l'ho mai messo ho distrutto le tue torrette come hai fatto perché il laser supera ok va bene è stato molto intenso semplice e banale no poi adesso forse servo io quindi io assolutamente non come inteso secondo me assolutamente no però io devo passare se non mi attivi il passaggio io non posso andare avanti esatto ora devi premere cosa devo premere? hai bisogno di un cubo si devi passare il cubo ok allora cazzo tu puoi aprire qualcosa qua? no assolutamente no vediamo vediamo si adesso ho beccato il lato sfigato non posso fare no ma non è ma fava cioè aspetta a meno che mi è pure bloccato perché non posso fare niente questa inquadratura fate un po' vedere qua ok no niente questo qua non posso fare niente non c'è nulla c'è soltanto una roba là ma non posso neanche tornare indietro cioè mi hai aspetta eh vabbè si io ti posso far tornare indietro quando vuoi ma non è quello il punto scusa ma io non posso andare al lato tuo perdonami no ci hanno chiuso esatto vediamo ah infatti io non posso darti energia cinetica tu me lo devi passare evidente sì allora sicuramente deve saltare da là eh sì esatto vi devi passare il cubo e fin qui ci siamo arrivati c'è il salto che può fare il cubo però non puoi fare un loop di cadute? no eh no è questo il fatto è ovvio che un loop di cadute sarebbe la soluzione ma non posso crearlo perché tu dovresti aprire il portale lì e uno lasciarlo lì dove stare il tuo così che io lo lancio e ti cade accanto esatto però eh manca il il processo attraverso il quale posso aumentargli l'energia cinetica se io creo un ah a meno che puoi prenderne un altro esatto esatto infatti semplicemente che ne prendi un altro esatto esatto penso se basta l'energia esatto quello solo che io come lo prendo nulla lascia così ah perché arriva ok ah è molto più leggero di quanto pensassi ok perfetto grande aspetta questa è colpa tua che non mi hai fatto vedere che c'era il pulsante era una stronzata no non me lo ricordavo eh non è colpa mia è colpa tua ok penso che adesso toccherà a me far qualcosa tipo ok ti posso passare la palla ti posso passare una palla penso sì per cui tu ti devi mettere il portale là e uno là e io ti passo la non so che farci con la palla non lo so però intanto te la passo merda ho sbagliato aspetta sono spostata ok 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 adesso non lo so gioca giocaci non posso farci niente eh no ci deve essere per forza qualcosa qualcosa di disintegra non puoi andare avanti ecco siamo arrivati ok allora io qua non posso fare assolutamente nulla forse devi premere il pulsante e farmi fare un ponte qualcosa hai qualcosa tu lì no niente no devi mettere la palla qua bene quindi io non so che fare aspetta ah ok questo posso mettere il portale ok 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 allora dov'è la palla mi hai fatta sparire dov'è dov'è finita è caduta dammi la palla susi muesli grazie io penso che sia scontato che te la debba passare no sì 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 no ma infatti in realtà era un bisogna utilizzare bisogna solo tenerla un po' al sicuro no no infatti è tonda sì una palla è tonda allora io la metto qui io da qua non posso far niente ferma ferma ma è in pendenza qua stai ferma qua ma stai ferma no 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 si distrugge basta ferma è fastidiosissima la metto qua nell'angolo chiusa qua ho detto in realtà appunto giustamente dicono che non è una palla è solo un cupo senza spigoli hanno anche ragione loro allora io anche poi di lì non posso fare niente comunque io non so come dovresti andare avanti tu perché mi stavo di poter volevo fare un portale qui per spostarmi là io non vedo come spostarmi lì possa cambiare qualcosa per te cioè io l'unica cosa che posso fare è mi metto là e poi nulla ti guardo ti saluto allora tu sei lì no? ok e basta dai usa usa la tua intuitività incredibile per risolvere il problema è come se dovessi non me lo puoi passare non me lo puoi passare a volte è questo non hai non posso passartelo però sembra evidente che io debba passartelo scusa eh ma se tu tu non puoi ah 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 ti vedo si non puoi superare tu non puoi portarti la sfera qua ok era troppo facile e tu non puoi neanche fare un portale per me eh eh no è tutto bloccato aspetta un secondo aspetta un secondo ah ok è molto più semplice di quello che sembra allora io non devo prendere la palla io devo solo lanciartela allora faccio è un portale qui è un portale qui ah me la devi esatto e quindi poi io devo cambiare portali scusami nel mettere la pallacade eh per forza si si vabbè aspetta 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 perché poi tu la metti là non so se ho sbagliato voglio vedere io devo no è giusto è giusto va di là e poi io te la rimando però aspetta se tu la fai cadere adesso che percorso fa si allora la palla va dal giallo ed esce dal rosso ok perfetto il rosso me la fa arrivare me la fa arrivare suppongo esatto qui io la posso a quel punto mentre in volo fare ritornare indietro te la faccio ritornare indietro e poi ho fatto e poi tu fai si solo che ci vuole la mia coordinazione è inesistente guarda quello che ti serve l'unica cosa che ti serve è fare quello che devi fare brava grazie non farti colpire e vinci va bene brava 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 siii si ora lo devi prendere però ti potevi essere lì tu dobbiamo sincronizzarci entrambi beh si dovevi andarci a prenderla era scontata quella cosa anche io devo cancellare il portale si devi fare si ti devi muovere era scontato che cadesse in acqua bravo bravo ti vedo ti vedo in forma smaiante oggi colpa dell'efficio colpa dell'efficio si sono pronto che ansia questo è l'efficio questo è l'uno e vabbè questa non sarà l'ultima live questo è l'uno ma in realtà era una stronzata si 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 solo che questo è arte terapia perché è terapia eeeh dammi il mio posto no l'hanno fatta apposta erano le copertiglie a forza ah tra l'altro ho letto siccome ho pubblicato la prima live le diverse persone hanno detto ah però quello con lo split screen ti viene alla nausea beh è scontato che se tu guardi lo schermo split screen devi guardare un lato o l'altro non si possono guardare tutte e due insieme che cazzo Frank grazie va bene ok qua già sono cazzini comunque si sono super cazzini questi adesso perché io lo mando qui tu mandi il laser e poi ce lo infiliamo super tieni il laser ok che stai facendo cercando di vedere è molto più su dico sì ah perché ah è lì ok aspetta eeeh va bene quindi ah no aspetta io devo sicuramente farti un portale prima di fare questa operazione esatto prima di star ferma ti devo fare un portale però a che pro per farmi andare di là senza fermare in un'altra per farti andare di là esatto per farti andare di là quindi devo mettere uno là sì e uno dall'altra parte eh sì però a che altezza quella è disposta sì giusta ne è solo una ne è solo una è quella non sapevo quale vabbè è molto libero ok tipo così non proprio non proprio un po' più la mia domanda era legittima ah 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 presto no non importa torniamo ah ok ah ora devo stare devo stare molto attento ma posso passare anch'io no chi se me frega no il fatto che ci siamo invertiti tu devi venire qua sì ma non posso che ho senso devi volare tu guarda nello schermo quanto sono grasso ok adesso tu vai lì ok faccio questo ok no aspetta dove lo devo far passare a che cacchio serve sto coso aspetta non mi scendo non fa fare niente c'è 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 no perché quello ti fa aprire la l'ascensore ci vuole un altro laser aspetta no è una combinazione di cose vabbè non abbiamo visto no chi se ne frega un secondo dobbiamo capire allora di là si esce ma se è entrata questa è l'uscita quella che sto indicando io non so dove sei tu io quando parlo parlo del mio schermo si esce da là si certo bisogna attivare l'ascensore che probabilmente si attiva portando il laser qui e quindi tu poi devi salire sul ponte tenendo le cose in mano allora fatti vedere che succede se mandiamo il laser sull'altro sensore solleva il laser Uga di no le crisi di prurito mi sto facendo incazzare da morire ovviamente si solleva la pedana appunto quindi bisogna far sì che il cubo arrivi lì sopra per farlo arrivare lì sopra all'altezza giusta perché nessuno debba tenerlo in mano serve un ponte quindi nulla semplicemente ma il ponte è verticale non è orizzontale ma quello si può risolvere penso in qualche modo non con i portali a meno che tu non possa mettere il cubo sulla testa del ponte probabilmente puoi farlo proviamo fammi passare di nuovo fammi il portale magico del trasporto devi andarci tu comunque quindi non te lo devo fare allora se vuoi andarci lo fai tu no non è vero perché se lo faccio io poi si cancellerebbe il laser quindi se tu fai questo poi lo cancelli non succede niente noi possiamo invertirci i ruoli ti sto dicendo comunque quindi si ma tu fai i portali qui esatto ti sto dicendo se vuoi andarci tu appunto esatto devi fare il laser però si un attimo non capisco vediamo un po' ok non di fare quello di fare l'altro quello di sopra esatto e dov'è quello esatto esatto quindi così? penso che vada già bene così così? sei sicuri? sì abbastanza forse un po' troppo basso ma ok quindi vabbè sì insomma ok vediamo un po' allora se adesso io vado là posso correre e faccio un ponte ehi stai fermo no tu considera che dove c'è quella eh non c'è un modo io non lo sopporto più ugo eh si è stressato prima questo ponte verticale vabbè qua ah non ancora devi tenermi un secondo le cose ok faccio un portale qui poi scendo ora per quello che vuoi ormai il portale è fatto e non si cancella dici? no sai che potevi uccidermi? no 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 non potevi morire per questo però prova a mettere ah no no niente perché il cubo ora faccio esplodere tutto non può affoggiarsi lì forse sì sto cercando di capire no non funziona il ponte non ha influenza sul laser pandrail grazie ma che cazzo serve sto ponte non posso mettere portali a livello base che sarebbe la chiave per risolvere l'enigma in maniera normalmente logica lì non c'è altro modo l'unico allora è il mio questa è la soluzione cioè sto a fare solo che come lo giri il ponte la risposta la risposta è quella quale no che andrebbe girato il ponte ma neanche troppo in realtà però sì andrebbe perché sì se giro il ponte no non è vero perché se giro il ponte comunque questo lo incastra lui ha chiamato lei ha chiamato il test crash però qua non c'è un cazzo da schiacciare sì io penso che fosse solo una battuta sinceramente allora io un po' se io vado qua e ora non può uscire senza i macro eh sì però aspetta ok allora allora ascolta il laser che tu sollevi aspetta aspetta ignora smettiamola di pensare a questa cosa non ci serve più fai lo step successivo alza l'ascensore cosa? alza l'ascensore cosa alza l'ascensore? con il laser qui e quindi lo blocchi no non si può bloccare non puoi bloccarlo non posso metterlo a parte che lo spacchi bullo tu comunque metti metti il laser nella nuova posizione ma non posso perché lo dovrei tenere fermo io per una fallo eh ma non è la soluzione è una parte della soluzione sicuramente è più utile avere il laser sull'ascensore che non sul portale che non ci serve più ok ma nonché tu da quella posizione non veda qualcosa che io non vedo farò scendere no ma in ogni caso non puoi fare portali quindi non serve a niente non puoi fare nulla non puoi fare niente da là fammi scendere no allora bisogna portarci il cubo lì allora bisogna farci allora il cubo perché come vedi una volta che sale non puoi più scendere cioè l'ascensore sale e basta quindi noi dobbiamo essere già pronti sulla pedana nel momento in cui il cubo arriverà tu dici di fare un portale qui e qui con il laser che arriva minchia esatto oh era l'ultima chance però è non è vero non ci hai pensato proprio no sarebbe stata l'ultima chance una volta che l'idea di usare il ponte per bloccare il ponte continua il ponte continua non capirlo vediamo un po' vai può servire a bloccare no il cubo no infatti viene disintegrato il viene disintegrato il cubo non possiamo andarci allora il fatto è che in qualche modo dobbiamo far arrivare il cubo con il laser in posizione per attivare l'ascensore perché l'ascensore una volta che si attiva sale e non scende più faccio io così avendo già fatto il portale posso portarcela ok fin qua si ora mi togli il non posso non puoi togliermelo appunto avere il cosino qua se tu no perché servirebbero due cubi servirebbero due cubi per servirebbero due cubi per poter fare quel portale non serve a niente allora liberami sta barriera deve essere utilizzata in qualche modo può uscire aspetta no non posso uscire prenderei il portale che ho fatto qua comunque comunque la barriera ci serve in qualche modo basta no io la mia vita è questa costantemente con questo suono continuo di rosicchiamento che voi non sentite in live ma che mi sta portando via la salute oltre che la salute del gatto Ugo ah non si ferma no non si ferma lo fa per ora ininterrottamente sì sì no purtroppo non fa molto ridere allora qui non possiamo nemmeno fermare il laser e sbloccarlo aspetta il laser deve essere alto sì metti appoggia il laser appoggia il appoggia allora fai il portale per il per questo per l'ascensore sì prova ad appoggiare il cubo terra ah non ferma eh no non lo ferma nemmeno pensavo no perché si ostruisce qua vedi c'è no ma dico il ponte non ferma il laser quindi non può cioè non posso nemmeno fare l'attivazione quando siamo entrambi sul sull'ascensore come mi era venuto in mente eccovi e per caso posso nemmeno appoggiarlo lì no quindi la barriera non blocca il laser che micchia serve a me viene da pensare che appunto che magari metti fai passare la barriera qua ok e noi facciamo arrivare in qualche modo però è troppo alta forse cosa no io posso farci arrivare il cubo là e perché doveva arrivare il cubo là ah per bloccarlo in volo esatto e ma che pro risolve è risolto così ma è no perché poi cade scusate no che non cade è follia ma è geniale ok corri 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 presto di più di più però è risolto sì ma qui serve una una peculiar cleverness prego comunque mio pio avevo pensato al laser ma non al cubo chiudi il gatto in una stanza o mettilo nel microonde voi non lo sentite è una cosa insostenibile ma non è finita guarda che ce l'hanno incrociate che stronzi ma le contrazioni guarda non è normale quella cosa guarda che guarda la scena si si ok io non farò mai più giochi di enigmi in vita mia comunque doveva finire se ti lanci là torno indietro dove alla fine del livello però serve un cubo il cubo ok ci sei arrivato tu qui non aspetta mio dio questa arte terapia è ansiogena tu hai qualche pulsante da premere? no che serve questo? questo è un casino no questo serve per farlo uscire scusami e come fai? questo è il fatto però ok appunto qui c'è un foro per portali aia però non c'è nessun materiale in cui lanciarlo no io adesso lo chiudo perché non lo sopporto più ma si chiudilo non si sostiene attenzione aspetta aspetta esatto sì vabbè ma che è sto incubo che cazzo sono queste cose? non lo so dove sono mi sono persa c'è talmente grosso sto livello che mi sono persa non so più dove sono sì sì ma quello non è per una quello non è per fare un portale quello è solo una pedana e qui dietro c'è altra roba cazzo oh my god è un weapon cazzo allora e dopo che vado qua e qua puoi accelerare in maniera pazzesca ok che serve? guarda orizzontalmente bene mi fa piacere che vabbè sì potrebbe centrare per centrarmi il gioco vabbè io non mi sto muovendo sì ma perché non sono perpendicolari con l'altra nel gioco base nella storia ti centra ogni volta che entri nel portale proprio per evitare questa cosa che era una caccata del primo portal ti semplifica la cosa per questo motivo ogni cosa mi veramente forse sei tu che mi devi cambiare il portale dove sei? dove mi hai lasciato? non so dove sei finita tu io non ho idea di dove tu sia sono andata dietro dietro di te dietro dietro esatto là lì tu puoi cambiarmi il portale mentre io sono in volo e farmi uscire sì guarda torno indietro questa pedana qua mi puoi far andare in là non rispondere male intendo dire io dovrei farti entrambi i portali no perché io io prendo velocità quando arrivo in basso tu me lo cambi mi fai sparare dall'altro lato intanto tipo metti il rosso e poi mi cambi il mio azzurro lo fai diventare giallo e mi fai uscire aspetta 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 non risolverà nulla perché perché allora perché ti schianterai qui e quindi io non ho idea di cosa diavolo ok io ti lancio d'accordo giusto e e poi e neanche con il rallenty nel senso cosa dovresti fare una volta lanciata perché tu a meno che qui non c'è niente questo è qualcosa da fare al cubo non a noi eh si sono al cubo come esce aspetta aspetta la c'è intanto fammi uscire perché mi sono bloccata non posso uscire vabbè tu cominciate ad accelerare basta che mi fa un portale e mi fa uscire devo semplicemente uscire vabbè ma potete volare dai fammi uscire giù giù fai un portale giù si potrò un portale giù certo che secondo te come ci sono arrivato vabbè si oggi sono si ho notato eh non io devo arrivare là come ci arrivo là beh facendo qua qua intanto ci vai a pieno terra si e poi lo guardo con amore perché non ci arrivo no ci devi arrivare esatto aspetta te lo posso fare io ti posso fare arrivare io forse qua però poi no perché poi tu perdi i portali allora ascolta qui serve una qualunque caduta o catapulta ce ne sono di catapulte qua solo che non posso raggiungere quel luogo dove c'è la catapulta senza e uff perché c'è pure il portale che ti impedisce di che ti impedisce di sì ma io non arrivo all'altezza dei cosi con la catapulta guarda non posso usare quei due cosi lo so e quindi non serve a niente la catapulta non quella parlavo di quella là dentro solo che quella là dentro allora stronzi stronzi a che serve avere un portale ah forse questo quando si apre dentro è bianco serve il pulsante ma non è bianco dentro semplicemente dietro dietro è bianco no secondo me semplicemente ci può stare sopra sì ma dietro c'è il bianco allora ok secondo me no sì è qui lo vedo benissimo per farti arrivare allora il tuo obiettivo è uscire da lì veloce sì e per farlo hai hai dobbiamo tornare dovevamo prima quel postaccio o là e senti prova non cazzo perché è pieno di plasma non ci permette di tenere i portali non ci permette di tenere i portali quindi non posso neanche buttarmi così e qua e volare verso il pulsante forse con quella poca inerzia poteva già bastare non è detto però però aspetta ah no perché qua noi non possiamo salutare io da qua cosa posso fare nulla questo può servire che ci puoi ma nemmeno ci puoi buttare il cubo ma il fatto è che mi sembra così impreciso come idea cioè questo mi sembra grata questa grata mi sembra un indizio per farti capire se ci devi buttare il cubo non tu o che puoi sparare un portale solo che anche se lo spari si distrugge non puoi spararlo fuori scusami si attraversa di la cale no è per noi in realtà appunto non è per il cubo quello però allora allora ascolta questa cosa è esci da qui e fai un portale qui come puoi ora fare un portale dall'altra parte in nessun modo se non mi aiuti ad andarci allora ti aiuto ad andarci ok vai a fare un portale di là ora ho un passaggio per il pulsante è impossibile che non si debba fare questa cosa detto ciò detto ciò io devo riuscire a fare questo ok lo metti e poi esatto esatto ok il pulsante il pulsante il pulsante ti permetterà di ora vai qui dentro si prima vediamo cosa fa il pulsante apri il punto fammi vedere cosa fa il pulsante apri il punto ok ora vai là quindi è definitivo comunque non è si ok ora aspetta perché se tu ti lanci a super speed da qui lanci il cubo il cubo arriverà qui io non posso mandarlo si che no perché posso fare qui dentro posso fare un portale solo e anche lì ah c'è il buco adesso tutto questo no c'era anche prima si ma non c'era la roba appunto quindi posso fare questo si però dove vogliamo che arrivi quel cubo perché non può entrare lì perché non ci serve serviva a noi perché ti devi lanciare forse al ritmo per prenderlo ma cosa ci serve il cubo ad aprire la porta e andarcele è questa ah quindi ti devi lanciare al ritmo e prenderlo beh in realtà sembra troppo no posso andarci insieme a te ma non aspetta non ce ne sono fredda scusa lancia il cubo ah perché va lì ah uuuu merda oddio in mezzo alla melma non è ecco perché c'era la prospettiva finisce nella merda qua esatto ah ah uuuu nooo ho preso vabbè senti si ma è impossibile questa cosa vai vai in senso proviamo si ma non so manco il ritmo non importa ce ne saranno tanti tu non devi venire con me devi lasciare solo il cubo si lo so ah ok ok vai non va ah si va no ok devo capire il ritmo un attimo ok tu insisti ok ma no non so il ritmo non so quando lasciarlo devi dirmelo tu ok vai ok vai aspetta adesso ho cambiato il ritmo di inizio vai ok ok a me sembra che stiamo andando a fare lo stesso sbaglio tranquilla vai ok vai vai mamma mia mamma mia si ma questa cosa online come fai a farla allora io devo lasciare mi stai passando il cavo del controller io devo fare sparire il gatto perché non lo porto più voi non lo sentite c'è il microonde ehm ehm è il microond ehm è il microond costantemente facciamo vedere che cazzo sei fatto sto cretino no il gore in live il gore in live tieni il culo se no non ce la faccio quanto pesa oddio quanto pesa non si vede purtroppo sto cretino non si vede bene questo grandissimo cretino si è sbudellato l'orecchio qua non si vede si è sbudellato l'orecchio per queste crisi stupide infatti martedì si fa un'altra visitina un altro controllo ancora per vedere se ha un'altra malattia vero? perché ci ha rotto un po' le scatole se no se gli tolgo il collare si squarcia eh lo so ugo eh uè non è un neonato andiamo sopra un fiore crasso lo so ugo lo so oh no cazzo che stai facendo? anzi mando per quello che ci aspetta no noi magari fossero gli acari abbiamo già fatto tutti i test del mondo non ha acari non ha pulci non ha niente allora che succede? non posso fare niente che no già vedo vernice e mi stanno una barriera mi stanno venendo le ansie allora esatto e poi qua ok ah dici che lo zozzi tutto ok avvio siamo bloccati possiamo passare così come? è finito no no ti piacerebbe questa era solo la prima parte oh no cazzo allora allora e il ponte qua si può mettere per andare dall'altra parte qui? cosa cosa fa questo pulsantone buffo? allora e che serve fare questa cosa? per ora nulla grazie comunque stavo ragionando allora entrambi i liquidi escono quindi possiamo insozzare sì ma non dobbiamo insozzare a caso evidentemente no probabilmente dobbiamo allora l'arancione secondo me dobbiamo mettere il ponte qua accelerarlo eh poi mettere il rimbalzo alla fine e saltare sulla pedana attivata che però non so come attivare quindi comunque non so come perché manca un cubo spero che il ponte così si incrocia quindi non possiamo accelerarlo in nessun modo intelligente no rimane sporco quindi aspetta questo invece questo è interessante questo è interessante sì dobbiamo cooperare non puoi fare tutti i portali tu eh no sì infatti quindi stai fermo un secondo dimmi che stai facendo stavo pensando di costruire una sequenza simile a prima per saltare però il fatto è che ah lì c'è il cubo sì il cubo c'è ma raggiungerlo è tutta un'altra storia no c'è devi accelerare accelerare è saltare penso in un'unica maniera devi usare il ponte ok tu fai così e poi tu fai un portale qua per l'accelerazione però saltare non basta no aspetta non metterci quello arancione mettici quello blu mettici quello blu fallo tu portare qui secondo me serve e serviranno entrambi probabilmente sono d'accordo ah ho un'idea sì 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 ok fallo qua no 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 non importa questo non è giusto ma si può sovrascrivere esatto fai lì esatto lì fai quello blu e in quello altro fai quello arancione e una cosa è fatta ok hai fatto il contrario comunque ah no lui è lento ok adesso ora metti il blu sopra ah la sovrascrizione sarà corretta perfetto vediamo merda no no va bene non importa eh no si è bastato ok ok quindi questo basta poi lo poggi là e abbiamo risolto però aspetta non voglio togliermi la chance di vedere dall'alto se posso fare qualcosa non mi pare non mi pare no però è fatta aspetta 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 non sto immaginandomi le cose e non ci i robot non hanno i reni ok ora noi possiamo fare questo questo e quasi aspetta aspetta scusami ma mettere i due ponti e rimbalzare fino a in alto no scusami mettere il ponte qua eh che ci fai la stessa cosa abbiamo fatto prima eh non puoi salire sulla soluzione sì non è così alto se io ti metto il ponte se io ti metto il ponte qua che ci fai scusa non ho capito ah per essere sì dovrebbe essere sotto quello che dovresti fare non credo proprio funzioni cosa si dovrebbe fare? aspetta questo metto il ponte qui allora fammi fai una cosa prova vieni qua vieni qua dove sono io metti un portale qui e metti un portale qui merda no non c'è più quello azzurro vabbè provo comunque serviva quello azzurro non so perché cosa è successo perché è arrivato quello arancione lì no è tutto arancione si è rovinato tutto io ho messo i portali dove volevi tu comunque aspetta ah perché giustamente il liquido esce da lì aspetta eh adesso io faccio il portale qui c'è il ponte facciamolo senza facciamolo senza implicazioni portalose ora quello che dobbiamo provare a fare è farlo insieme abbastanza in fretta potrebbe fallire miseramente o essere un incredibile successo metti un portale qui prima di metterlo qui esatto perché si sporcherà ed è per questo che c'è una pausa nel liquido quindi devo metterlo qua lì sì poi quando te lo dico io ah no perché abbiamo superato non ci serve mettere questo ponte comunque vieni 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 avanza no dobbiamo farlo insieme sì se mi spiegassi cosa vuoi fare sarebbe tra una pausa e l'altra farai un portale qua e ci getteremo sul portale ok rimbalzare andare sull'asoluzio secondo me io continuo a non capire dove vuoi andare senza il ponte è palese che serve il ponte ed è palese che lo devi sporcare no no noi usciremo qua e rimbalzeremo come farai a rimbalzare là è blu e basta secondo me non cadiamo come merde prova non ancora no 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 se lo fai mentre carica lì io continuo a non capire cosa vuoi fare santo cielo energia cinetica cadira qua salti energia cinetica consumata rimbalzi sull'azzurro e arrivi qua quella era l'idea però la cosa migliore era farlo con un salto ma intanto risporcalo di azzurro sì non so perché l'ha messo là che stai facendo sto invertendo il portale male ok allora adesso aspetta metto il portale qua del ponte ora tu mettini uno qua stai cambiando idea di nuovo? no sto aggiungendo energia cinetica ok ok e uno qua perfetto ok e ok allora adesso può funzionare può funzionare la stragrande sta cosa adesso devo mettere prima il portale lì sentiamo saltare sì metti il portale lì e poi allora facciamo una cosa cominciamo a rimbalzare senza essere in pericolo rimbalziamo no 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 vieni qua sull'azzurro cominciamo a rimbalzare senza paura non uccidermi non uccidermi questo è per sboccare meglio ok facciamo che lo facciamo una alla volta se no c'è una vicenda ma non possiamo farlo una alla volta perché non si sporcherà c'è abbastanza tempo c'è abbastanza tempo ti dico io quando fai il portale ok sì faccio il portale che faccio poi ti butti dentro quindi deve farlo è meglio che mi lancio e faccio il portale va bene scegli tu però allora fermati e quando te la senti quando lo dico io salta e fallo aspetta ora sì se mi vai sotto io non posso saltare aspetta non basta non puoi fare questa cosa io non ce lo faccio non si fa così serve il ponte serve palesemente il ponte non era male come te no è una cosa contorta e in pratica devi chiaramente mettere un ponte in qualche modo sporcarlo con liquido utilizzarlo per arrivare lì e seppure rispostato il cubo non ho capito il motivo perché cazzo si è spostato il cubo di nuovo non ho idea ora tanto sta qua ok a me piacciono i lingui fisici se si sporcava un po' di più l'azzurro secondo me ci arrivava sì ma non è così che si risolve secondo me bisogna fare in modo tale che si sporca il ponte cioè dobbiamo mettere il ponte qua si sporca e noi dobbiamo saltare da questo rimbalzando non so perché si è messo storto il ponte però sinceramente eh tipo in quel modo col ponte esatto e poi non lo so poi ci attacchiamo al pipolo perché non lo so però eh ma cioè ha più senso che noi in qualche maniera utilizziamo questo ponte sporco per rimbalzare nella direzione sì lo so infatti è un enigma difficile per questo motivo ma dico secondo me noi intanto dobbiamo andare da quella parte sicuramente non dobbiamo farlo da qua prima cosa andiamo dall'altra parte allora prego se zoom è più facile mirare allora da qui io faccio sempre sto tu non c'è spazio per due se si mettesse qua perché il momento in cui si sporca e tu lo cambi si pulisce giusto già già e una cosa che si potrebbe provare a fare è questa provare a sozzare di azzurro ah no sparisce non si sporca neanche un momento il liquido nero si schianta sul tubo il liquido nero vabbè blu questo è storto ma no perché va messo qua ah sì te lo metto là però non risolve assolutamente nulla e se me si mette là si mette là si crea questo tu rimbalzi e tu metti un portale qui e un portale qui potrebbe funzionare no non ho capito uno qui e uno qua vediamo ok mischiate i tuoi gel per ottenere quello verde esatto però sono mai in quel modo che si fa sì sì solo che adesso ok vediamo si accelera di corri 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 sono 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 eh no spero cantiamo vittoria perché ci devo arrivare io ok non era non è andato ce l'era di più che cazzo devi usare il cuscino che aveva dietro la schiena altrimenti non che palle eccolo eccolo ok ok alcuni degli esibiti sono topicali al punto in cui andate quando andate loro saranno irrelevanti delle camera non capisco che cosa sono giuro che non ho idea di che cosa siano eh è troppo low poli per saperlo purtroppo questo era il quarto sì ok perché sei tu ancora qui? oh il disassemblero non funziona è niente da preoccupare è in realtà divertente in una forma che non capisci oh no oh comunque si riusci io ho avuto la macchina il che ti fa capire non è mai servito smontarci comunque vai le braccia per muovere le pareti delle stanze ah sì giusto c'è una sala di ruota sotto ogni disassemblero c'è trovandola e cicli il potere chissi che chissi Non siamo 100.000 anni Nel futuro Mi lievo di questo È stato 50.000 anni No, non è Mi lievo quando sono nervosa È solo una settimana La prossima domanda Perché sono nervosa? Non sono È un'altra scuola Siamo in un po' di problemi È una settimana dopo Siamo in un po' di problemi E tu veramente, veramente Devi riferire i disassemblers Ok Oddio ma Siamo in un po' di problemi Siamo noi Sì Sì, guarda Siamo noi Vabbè, certo Perché come siamo disassemblati Sì, questa cosa è terrificante Oddio Ma È bellissima È grassa Ok È impiegata Io penso che se dopo questo Mi gioco Half-Life Il mio cervello Sarà in pace Con lo spirito Finalmente Ma non ci sono enigmi pure In Half-Life Aspetta un po' Si può spirciare su un portale Magari Cosplay di un dipendente statale Dove Dove sei? Non lo so Ok Dov'è la porta Dov'è la porta succhiusa? Non lo so Non lo so Dov'eri? Non lo so Dov'eri? Non lo so Dov'è la porta È bello Se l'ho scordato Dov'era Trov'è la porta Trov'è la porta Ok 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 quindi Cazzo Era un easter egg Andiamo Non lo so Dove siamo? Dove sei? Ah Sei voluto entrare Dove sei? Aiuto Eh Non Andiamo Ma cosa sei? Cosa abbiamo fatto? Siamo persi Andiamo Io ho tirato a sbattere Aspetti di aprire i miei portali dietro Mentre cammino Leva ti dà al mio posto Ah ma sono uguali Esatto Sono della stessa Leva Pronta? No Quale leva? Davanti ai tuoi occhi Vai nel tuo Tirala Ah no Non sono cadute Ok Ah ok Oh Finalmente Non l'avevo Infatti è strano che non l'avessero messo Nel Nel gioco base Diciamo Eh Però adesso Dobbiamo capire Come si insozza Ah No Giustamente Non ci possiamo muovere No Non è vero Eh dai Su Madonna Sei gambette Gambette Ma no E C'è una discesa Eh sì ma è un inganno È per prenderti per il culo Ah dici no Giustamente Fanno notare Basta fare questo Sì sì Puoi sporcare con Vai 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 Fai portali Fai portali Insozza tutto Insozza tutto Sì Senza togliere i miei Possibilmente Sì Scusami C'è già una Sì lo so Cioè non togliere il mio Mettine altri Eh lo so lo so Stavo cercando di creare Un percorso così Verso Ecco Ora puoi farlo Che tristezza Che tristezza Incredibile Non hai messo male Vieni casa No 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 Ci sono anche le torrette Dove sono le torre maledette Bianco ovunque Eh no Qua non si può Ma smetti Basta far casino Non bastasse La quantità Che fai Che succede Non togliere il rosso Devi girarlo forse Eh no Questa è la massima energia Che può avere Ah ho capito No non ho capito Che non può farlo Sì Di qua Di qua Che ci fa Perché qua Per fare il giro Dove non può Non lo so Non lo so Non so che dobbiamo fare Oh no Sono all'inizio della tappa Ok Ora bisogna Beh Secondo me ci arriva Secondo me ci arriva No Non ci arriva Sì Ci arriva Aspetta Aspetta eh Sporca Sporca Vai Guarda Guarda come Insozza Non ci arriva Quello che possiamo fare Eh Ti può fare questo No Allora posso farlo anche io eh Eh lo so Devo mettere chiaramente anche io Lì lo posso mettere Sì Eh ma non serve Se anche se io Io lo porto Come ha fatto a sporcare lì prima Scusami Eh penso che No allora No allora Quello che vogliamo fare è Spararlo in alto Spararlo in alto Aspetta Ok Spararlo in alto Ok Prova a dargli più energia Devo Mettere il portale lì Esatto E poi metterlo lì Perché lo metto sempre Eh funziona funziona Sì ma l'ho fatto sfigatissimo Aspetta Aspetta Ok Ma io di così non posso È al bordo È al bordo Devi metterlo Esatto Dai Non basta C'è un cubo qui Sì Perché c'è un cubo qui Non lo so Ci serve È uno strumento utile Che ci servirà dopo Mi ricordo il meme di Topolino No Non spammare il fuoco Che fosse un casino Era il mio genio Che stava per avere L'idea finale Aspetta Che non si riesco a fare Scusami Non si riesco No Questo non va Ok Stai dicendo che non si sozza di lato Così? Però possiamo Ah no Perché comunque Allora Perché il fatto è che non può andare verticale Perché è comunque Inclinata l'uscita Quindi perché io pensavo Se saliva in alto Magari si poteva fare un loop Poi Del liquido Ma non si può Perché è comunque inclinato Quindi Vuoi morire Deciso che è arrivato il momento Di farla finita Non posso crederci Ho creato questo Ve lo merito Allora Eh però scusami Così non ha preso velocità Eh infatti Brava Esatto Tipo No Ma come No Non è funzionato Comunque si bisogna faria acquisire Entra nel portale rosso No Non entrare nel portale rosso Dove sono? Ok Sì dobbiamo Allora Qui si può sporcare Dobbiamo sporcare qua Dobbiamo sporcare qua Dove sei? D'accanto a te Quando sei sparito Somma non sei accanto a me Dove sei? Qual cazzo sei? Dietro il cubo Ah ok Qui Qui Questo Ci serve questo Dobbiamo sporcare qua Sporca questa parete qui Sporca questa Vai Inciozzo tutto Vedi? Guarda Guarda quanto 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 bianco È incredibilmente soddisfacente Comunque Ok Ok poi Fai fare a me adesso È finito? Sì Aspetta No lì non c'è niente Allora faccio Così perde Inerzia Sto cercando di sporcare Più in alto Dobbiamo sporcare Più in alto Più in alto Più in alto Merda Eh ma non qui Perché no? Sporchi più in alto qui Non serve a niente Sì che serve Perché poi ne metto uno Secondo me serve questa È ovvio che questa parete serve No no d'accordo D'accordo Metti Metti pure un portale dove vuoi Però il fatto che l'altezza Servirebbe qui E questa non si può usare Io non ho mezza idea Non ce l'ho Allora Mettimi un portale qui Ok E poi Anzi fa una cosa Mettimi un portale Qui Non so perché l'ha messo là Ok va bene Va bene va bene Aspetta Ok Adesso Mettimi un portale qui No Più cosa Aspetta eh No un po' più vicino Alla fare Ok Aspetta eh Ok Ho vomitato Nella mia anima ha vomitato Vedendo quella cosa Adesso Vieni qui Quando te lo dico io Quello chiaro Lo devi mettere Ok Vabbè No no Non di questa direzione Mettiti come sono io Di fianco No Di fianco Laterale Così Esatto Ok Sì pronta Quando te lo dico io Ok Adesso Ho sbagliato io Deve essere quell'altro Lo scuro Infatti io non ho capito Perché hai voluto Quello chiaro Ok Non è più preciso Da prima Ma va bene comunque Aia Ok Sei pronta Aspetta eh Ora Se solo riuscissi a salire qua sopra Quanto in alto sono andato Non ti ho visto Stavo sboccando No Sta veramente venendo la nausea Ricordiamoci In alto In alto In alto cosa Cosa vuoi Il portale Quale Quell'altro Quello scuro Ok Addio Io me ne vado Che cazzo sono Aspetta Aspetta No Stavo per fare un portale Aspetta Si fottano tutti Si turbo Fottano tutti Metti un portale qui Dove è il mio? Dove è il mio? Il posto tuo? Si Ok Ora metti un portale lì Vaffanculo Level design Allora Io penso fosse voluto comunque Come godo Sucate Sucate Oh Si ma senza cubo che facciamo? E poi ce lo portiamo Che ti frega Quello è il meno Vengono minimamente Influenzati No no Però gli lanci il cubo Alla fine Succede il disastro Più totale Anche perché comunque Non credo che possano fare molto Non si possono girare Giustamente Non possono girarsi Comunque non ti avrebbero potuto Fare niente Sono lì però Poverine Bullizzatissime Potrei farlo anch'io comunque Se la smettessi di sparare Cosa? Cioè che fai uscire liquido Tu devi versare al cubo Devi versare al cubo Vabbè Eh si Scendi Ok Ah non ho sbagliato Ok Ora metti un portale Stavo per cadere Metti un portale Dove ti pare Ok Cosa? Come ti permettono? Mi ha rubato il cubo Evviva Stavo Oh Oh Shut the door Here's our problem There's an old prototype chassis around here Someone's found it Connected themselves to it And it's trying to take over my facility What's the block? I spent the last week attempting to turn one of those humans you found into a killing machine Like Well You know who It turns out most humans are surprisingly fragile And surprisingly vocal about how fragile they are The moral of the story is all the humans are dead So it looks like it's up to you two marshmallows Ok Ok E' stato Terrificante Però dai Siamo allora La prossima volta Riusciremo a farcela Dipende Forse Sì Fai Marshmallow Inteso come pappamolle Sì esatto Una cosa molliccia va bene allora è stato psicologicamente e mentalmente massacrante davvero però si la prossima volta sarebbe il finale però twist è stato inutile perché quelle erano sacche di uomini morti eh si comunque dai dai non vedo una lora di versi in cop solo risentivo il 5 e 6 va bene dai tra l'altro effettivamente c'è anche Revelation non so se è Revelation o Revelation 2 che si può giocare in cop non lo so cioè uno dei due si può giocare in cop lo so che non te ne frega niente se fai va bene siete stati tantissimi vi abbiamo ingannato però perché credevamo che fosse il finale ma non è vero però non è stata colpa nostra dai va bene allora buon pomeriggio buon proseguimento e noi ci vediamo in una prossima live ciao ciao a presto a presto